Ormai le vittorie del Catanzaro, domenica è stata la quindicesima in 17 partite, non vanno più in notizia. Questa settimana è toccato alla Virtus Frangavilla il ruolo di vittima sacrificale, 4-1 il risultato finale. Torna alla vittoria il Crotone. A Cedignola risolvere il match è un piatto destro da furiare a Diawa al 72. È crisi invece per il Pescara, che nel posticipo di lunedì sera è stato sconvitto 2-0 dal Taranto. Per il Delfine è la terza sconvitta consecutiva, mentre per gli uomini di Eziolino Capuano è la prima vittoria fuori casa in Gambionato. Continua la striscia positiva del Picerno, che vince di misura a Messina. Decide al 38esimo Guerra, sul cui tiro però sono forti le responsabilità del portiere di casa Lewandowski. La squadra Lucana è la quarta vittoria nelle ultime sei partite. Vittoria rocambolesca per il Giuliano contro il Foggia. In vantaggio di due reti nel primo tempo, la squadra partenopea si fa raggiungere sul 2-2 al 92esimo dal gol di Tonin, che sfrutta l'incertezza della difesa avversaria, per poi tornare in vantaggio con un gol di Salvemini all'ultimo minuto di recupero e vincere la partita. Finisce 0-0 tra Gelsson e Latina. Per il rosso-blu è il terzo pareggio consecutivo a reti bianche. Il Monterosi-Tuscia vince 2-1 con la Vieta Erbese. Il gol decisivo è di Costantino all'ottantanovesimo, che con un pallonetto non lascia scampo all'estremo difensore avversario Fumagalli. Vittoria di misura della Juve Stabia d'Andrea. All'ottantoduesimo Mignanelli con un tocco di esterno sinistro mette la palla al centro dell'area, dove Pandolfi colpisce di testa e insacca. Vittoria esterna anche per il Potenza, 2-1 al Monopoli, e per l'Avellino, 3-1 alla Turris.